Buongiorno a tutti, oggi sono alla Romanina per l'evento della BU con Riccardo Simone D'Antoni. Questo salendo è vlog, se vi piace mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale che è sempre gratuito, commentate se volete altri vlog. In frattempo vi mando un bacione e ci vediamo dopo. Praticamente sono arrivato al centro commerciale e non c'è nessuno, cioè non c'è veramente nessuno e ci sto pagando come una cretina, ok, tutto normale. Saludate, saluta, ciao. È vlog per il canale, è gente dietro in piedi, capelli, persone, se fosse nessuno raga. Poi mangia le King Nuggets, c'è un uovo di pappa, sembra un uovo di pappa questa cosa in testa. Cosa è la che mangia? Ciao. No, non mangia ancora. Adesso. Perché i pazzoletti? Non fai pubblicità occulta. Allora, è l'1 a 9, dove passa? Sono carina? Sono carina. Gente dietro. Saluta pure la tizia. Ciao. Stai facendo un video? Stai facendo un video? E ora aspettiamo, Simone ancora arriva? Simone e Erika. Messo le tre. Messo le tre arrivano. Mentre faccio le video, c'è dietro. Ah, vai. Giorgia. Ciao. 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 Vieni qua. Ciao. No. Dicci qualcosa. Sì, meno vado di pappa questa cosa. Sì, no. Comunque alle 4 inizia l'evento e alle 3 c'è il backstage. No, ci iniziamo la B.U. Comunque la B.U. Non so perché la B.U fa schifo. Perché sono io. Siamo in fila per Simone e Carlo dentro. Niente è una tipa carina. Un'altra tipa carina. Un'altra tipa carina. Tipo carina dietro. Tanti tipi carina. C'è fino. C'è tipo un uomo alto. Un uomo alto. Un uomo alto. Roma saluta. Un uomo alto. Un uomo alto. e il tangenziale, andiamo a comandare, faccio foto con il mio cane, andiamo a comandare in ciabatte nel locale, andiamo a comandare, faccio acqua minerale. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.